supponiamo che qualcuno nell'ultima vita abbia vissuto in modo tale da aver agito muovendo da un senso dell'io troppo debole cioè da un senso dell'io che andava troppo oltre nella dedizione al mondo esteriore tanto oltre da agire con mancanza di indipendenza con abbandono di se stesso in un modo non più adeguato per la nostra attuale fase di umanità dunque fu la mancanza del senso del sé a guidare in un'incarnazione un uomo alle sue diverse azioni durante il periodo del kamaloka egli ha ora dinanzi a sé le azioni scaturite da un carente senso del sé pertanto egli assume anzitutto la tendenza a dover sviluppare in sé delle forze che accrescano il suo senso del sé in una prossima incarnazione si deve procurare l'occasione di agire contro l'opposizione della sua corporeità contro le forze che gli si contrapporranno dal corpo fisico dal corpo eterico e dal corpo astrale al fine di temprare il suo senso del sé cioè di ricavarne per così dire una scuola si deve provvedere di un corpo che gli mostri muovendo dalla corporeità che effetti abbia la disposizione ad un debole senso del sé quel che accadrà poi nella successiva incarnazione entrerà poco nella coscienza si svolgerà più o meno in una regione subcosciente la persona in questione tenderà ad un'incarnazione che contrapponga al suo senso del sé le più aspre posizioni in modo che egli abbia necessità di impegnare il suo senso del sé nella misura più elevata quindi egli verrà spinto come magneticamente verso i luoghi e le occasioni in cui gli si contrapporranno i più profondi ostacoli in cui il suo senso del sé dovrà ben cozzare contro l'organizzazione dei tre corpi fisico eterico vitale ed astrale per quanto possa sembrare strano individualità simili gravate da un karma per cui tendono ad entrare nell'esistenza mediante la nascita nella maniera descritta cercano cercano le occasioni in cui esse ad esempio possano essere esposte ad un'epidemia quale il colera infatti questo offre loro la possibilità di trovare le opposizioni che sono state appunto caratterizzate ciò che in questo caso si deve sostenere nell'intimo per quanto riguarda le opposizioni dei tre corpi nell'ammalato può in seguito farsi che nell'incarnazione seguente il senso del sé sia cresciuto in grado rilevante era il 19 maggio del 1910